Tifosi bianco celesti ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Corre la settimana, ci avviciniamo a piccoli e grandi passi verso il prossimo appuntamento di campionato, sabato alle 17.30 l'Entella affronterà il comunale La Vispesaro. Per assistere alla partita quest'oggi è scattata la prevendita, i canali di riferimento sono sempre i soliti www.entella.it per i biglietti online, l'Entella Point che sarà aperto nelle giornate di giovedì e venerdì, sabato dalle 11 inoltre sarà aperta la biglietteria dello stadio. In grafica vedete anche tutti i prezzi dei vari settori ovviamente per assistere alla partita di sabato. La Lega Pro inoltre ha comunicato anche l'orario della sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C, come sapete nel sorteggio di Firenze venerdì scorso Entella aveva pescato il Renate, la gara valevola per i quarti di finale si giocherà il 7 dicembre con fisco di inizio alle ore 18. Sarà una partita secca, qualora il risultato fosse di parità al termine di 90 minuti verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti, qualora persistesse ancora la parità se andrà avanti con i calci di rigore. La vincente di questa sfida in semifinale con gare di andate e ritorno affronterà la vincente del match tra Viterbese e Vicenza. Quest'oggi chiudiamo la puntata di Entella Time facendo gli auguri al nostro capitano Andrea Paolucci Entella Time torna domani puntuale alle ore 19.